signori siamo arrivati qua sempre all'ultima partita di qualificazione del girone dell'italia e siamo contro il galles speriamo di vincere e andiamo a vedere la partita in nord italia vai così dai partiamo per le cariche dai siamo per i carichi forza e coraggio forza e coraggio che dobbiamo vincere dai partita proprio deve essere partita vai dai l'ha fatto quel minuto potete distributo poteva andare dentro ma non c'è andata va bene va bene ragazzi va bene dai con calma ci va bene che il pareggio però se vinciamo è ancora meglio dai dai ci stiamo andando sempre vicino fra gola ci stiamo andando vicini bravi così però non non dobbiamo parlare oh ma via e' no ma via dai dai dai! va bene 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 così va bene infatti a desti spaventi non devo farlo per desti spaventi che sono le lunghe segna avanti sempre così non ci posso credere dai dai va bene va bene va bene va bene dai è lunga è lunga è lunga siamo ancora un mezz'ora del primo tempo anche con un'ora va bene ma mai che gol ma mai così si fa ci porta alla vittoria pessina pessina così si fa dai bene adesso stiamo in difesa bene e puntiamo a fare almeno un altro dai un altro la via che si va dai forte così avanti tutti i vari replay che a riguardare il gol vai così dai mancano quattro minuti dai ma non ce l'hai potremmo andare già sul tuo zero niente potremmo andare sul tuo zero niente oggi soffriamo la vede sofferente questa squadra b dell'italia vabbè dai fine primo tempo che potremmo che potremmo che potremmo che potremmo veramente potrei ce la faccio ce la possiamo fare dai dai ripartita e dai facciamo tutto bene poi di una sottoporta e niente no 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 non fa gol non non fa gol niente dai 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 va bene dai con cavo un calma un calma ci facciamo tutto bene facciamo ballazione veramente va bene che le ha messe su per farli giocare farli poter tutti però mi ha messi su 89 ma sta comprando anche abbastanza bene dai cinquanta e cinquesimo andiamo più che bene dai ragazzoni da che ce la facciamo qua dai comunque abbiamo avuto delle altre buone azioni ma dentro non riusciamo a buttare settantesimo 20 minuti 20 minuti buoni vai 73 74esimo dai quarto d'ora potremo che se la portiamo a casa così se la portiamo a casa dai dai vai manca poco e siamo arrivati se ne stiamo andati via primi da questo girone andiamo via primi e ci vediamo poi alla prossima appuntamento